Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video extra, video fuori dalle solite rubriche perché? Perché l'Atalanta negli ultimi giorni è oggetto di numerose critiche sui social, soprattutto dopo gli interventi di Gasperini e di Gosens, anche da parte dei giornali importanti, Capuano di tutti i convocati su Panorama, un articolo anche sul, mi pare, sul Corriere, insomma una serie di persone hanno trovato particolare fastidio le affermazioni dell'Atalanta e quindi se ne vengono fuori cercando di piazzare alcuni dubbi, insinuare alcune cose, creando secondo me un caso mediatico totalmente inesistente. Ma siccome YouTube è la seconda piattaforma di ricerca al mondo dopo Google, credo sia giusto anche qua nel mio piccolo lasciare qualche precisazione. Partiamo dal punto focale. Il punto focale dicono l'Atalanta fa tanto quella del calcio popolare e del calcio dei deboli, ma sostanzialmente guadagna soldi come tutti gli altri tramite le plusvalenze e soprattutto in combutta con i grossi club, perché sono i grossi club che comprano i giocatori dell'Atalanta. Vediamo di smontare la cosa. Innanzitutto loro dicono che i bilanci dell'Atalanta sono floridi perché fa player trading. Ora, se io ti dico che l'Atalanta fa player trading, tu come minimo pensi a qualcosa che ha a che fare con la finanza, qualche meccanismo particolare e senti puzza di bruciato. Se io però ti rigiro la frase in italiano corretto e ti dico i bilanci dell'Atalanta sono floridi anche grazie alla vendita a prezzi assolutamente vantaggiosi dei propri giocatori, la cosa cambia. Saper vendere non è una colpa, anzi, è un merito perché poi è questo di cui si tratta. Ovviamente la vendita dei giocatori dell'Atalanta dà fastidio, ma dà fastidio anche perché il mondo del calcio oggi è governato dal tema delle plusvalenze. Ve la faccio brevissima. La plusvalenza è sostanzialmente il guadagno netto sulla cessione di un giocatore. Ossia, se io ho un giocatore del vivaglio che ho a bilancio 0 e lo vendo a 10, la mia plusvalenza è 10. Il gioco sulle plusvalenze che fanno tutti, so che è molto craxiana come frase, ma lo fanno tutti, perché è consentito. Che cos'è? È comprare un giocatore e vendere un giocatore a tanto? In modo tale che io sono remunerato dalla cessione del mio giocatore, ma per venirti incontro cosa faccio? Ti compro un giocatore magari a 10 milioni con un contratto di 5 anni. Tu dici, eh beh però hai speso 10 milioni. No, perché a bilancio, quel giocatore, costerà solo 2 milioni. Perché se le vendite si imputano subito a bilancio, gli acquisti vengono spalmati per il numero di anni di contratto. Quindi il mio saldo finale di quell'anno lì, che ho venduto a 20 e comprato un giocatore a 10, non è 10, ma è 18 in positivo. E quindi, in alcuni casi, con alcune valutazioni discutibili, si va a creare tutto un meccanismo. Ma ripeto, è un meccanismo che è sostanzialmente permesso. Ed è un meccanismo che è difficilmente contestabile. Perché poi le valutazioni sono strettamente legate a valutazioni societarie. Non è che puoi contestare il fatto di voler vendere un giocatore a tot soldi. Inoltre, sempre per rimanere sul tema, il fatto che una regola non ci piaccia. Perché questa regola qua, per esempio, a me il meccanismo delle plusvenze non piace. non ci consente, non ci dà il via libera per non rispettare le regole. Le regole si rispettano anche se non ci piacciono. Questo qua vale il mondo. Quindi quando si muove questa critica è sostanzialmente ridicolo. Anche perché poi, se andiamo a vedere, è un meccanismo che fanno tutti. Poi, la critica passa a un secondo piano, perché su quel piano lì sono tutti o tutti colpevoli o tutti innocenti. E dicono, l'Atalanta non ha un programma, non ha un business plan. Sostanzialmente i bilanci dell'Atalanta stanno lì semplicemente perché vende giocatori. Come se la vendita dei giocatori fosse qualcosa di negativo. In verità, la vendita dei giocatori è, come qualsiasi altro strumento, uno strumento, una leva per fare incasso. Quello che importa è che questa leva non danneggi le prestazioni. Quindi se l'Atalanta riesce a vendere, allo stesso tempo comprare e ottenere risultati, brava lei. Chiaramente per chi pensa che il calcio sia uno show, questo non è un modello di business positivo. Perché loro vogliono che i soldi derivino dai diritti televisivi, dal pubblico, dalle magliette. Però ovviamente, voi capite che un conto è essere tifoso dell'Atalanta, un conto è del Real Madrid. Cioè, ci sono anche delle platee differenti. Muovono quindi questa critica, che poi va a chiudere dicendo Il bilancio dell'Atalanta è florido perché ha incassato tanti soldi dalle big che si sono indebitate per comprare ai giocatori. Che è l'apoteosi poi della follia. Perché innanzitutto l'Atalanta vende sul mercato libero. Quindi se una squadra ritiene di voler spendere 40 milioni, 30 milioni, 20 milioni, quanto vogliono per un giocatore. Chi siamo noi per dirgli di no. Successivamente, il fatto che le big hanno comprato giocatori a caro prezzo dall'Atalanta non è un problema. Se non lo compravano loro, l'avrebbe comprato qualcun altro. Ma il punto focale su cui loro vogliono sviare è che il problema che abbiamo mosso tutti non è il comprare i giocatori a un prezzo maggiorato. Perché quelli sono fatti i tuoi. Il problema è comprare ai giocatori quando non puoi permetterteli. Perché se hai fatto debiti, non è colpa dell'Atalanta o dell'Atalanta, ma anche di altri che vendono a prezzi alti. Ma è colpa tua che hai comprato quando non potevi permettertelo. Quindi tutto questo castello poi viene smontato molto facilmente, ma quando la raccontano a loro modo risulta che sembra veramente che si facciano chissà che cose, chissà che problemi. L'Atalanta è un modello di business basato sulla produzione, la creazione e la vendita di giocatori. Con questi ricavi, con parte di questi ricavi, vengono investiti nella squadra per ottenere risultati. È un modello di business che funziona, è un modello di business che tantissime squadre hanno fatto. È un modello di business che richiede una grande capacità di vendita, ma anche una grande capacità d'acquisto. Ed è un modello di business assolutamente lecito. Tutte le altre critiche stanno a zero. Poi, se loro vogliono un mercato fatto da bilanci, fatti principalmente da merchandise, bibite, biglietti, partnership con macchine, robe varie, quello che sono fatti loro, ognuno si gestisce il bilancio come c'ha voglia. Ma quando beccate qualcuno che scrive queste panzane e ne trovate tanti, voi fateglielo presente. Poi è chiaro che l'economia dell'Atalanta è limitata, perché non è che puoi venderli tutti, mentre l'economia che si basa sul merchandise, sul pubblico così, ha un potenziale infinito. Ma su quello che la Juventus o Real Madrid avranno sempre più soldi dell'Atalanta, credo che nessuno caschi dal pero a sentirla. Ma ciò non toglie che l'Atalanta può fare il suo, deve fare il suo ed è giusto che faccia il suo. E chi c'ha la rogna, chi è invidioso, se la tiene per favore non racconta certe bagianate. Perché davvero a un certo punto fa ridere la faccenda. L'Atalanta difende una forma di calcio non basata solo e esclusivamente sullo show business. Ma quello che difende principalmente è il principio di competitività. Non è un problema che l'allenatore dell'Ipsia va al Bayern Monaco per 25 milioni o che Goses prende 2 milioni. Non è quello il problema. Il problema è che non devono essere intaccate delle regole che vanno a minare la competizione sportiva. Poi fuori dalla competizione sportiva, per quanto ci riguarda, facciano tutti quello che vogliono. Perché a noi ci interessa relativamente, noi seguiamo il calcio. Ma guai a continuare a confondere questi due piani facendo passare tutta una serie di persone per dei emeriti imbecilli. Perché non lo siamo. Fatto questo piccolo video, spero che vi sia piaciuto. Vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione. E come sempre ci vediamo nei prossimi video. Ciao!